Stefania Larosa, lei ha contattato la nostra redazione per lanciare un appello perché suo marito dal 1 settembre manca da casa, è scomparso, ci vuole raccontare? Sì, praticamente dal 1 settembre alle ore 10.30 l'ho accompagnato in via di risorgimento nei pressi all'altezza di cassa di risparmio e da allora non ho avuto più sue notizie, doveva venire a casa per pranzo e invece non ha fatto più ritorno. Un appello che rivolgo, Massimo se tu mi senti, mi ascolti, hai modo di vedermi, ritorna a casa, ti aspettiamo tutti, siamo tutti in ansia per te, tutti. Lei dopo quanto tempo ha dato l'allarme? Lei ha aspettato il ritorno di suo marito all'ora di pranzo, non lo ha visto tornare, dopo quanto tempo ha cominciato a cercarlo sul cellulare? Alle 2.30 però il cellulare non l'aveva con sé, ho visto che l'aveva lasciato sul sedile anteriore della macchina e non ho affatto tanto caso, ho detto tanto viene all'ora di pranzo e lo consegno in quel momento. Poi praticamente è successo che non è venuto a casa e alle 3 ho iniziato le ricerche, anche perché c'era il consiglio comunale quel giorno in cui lui voleva proprio partecipare, voleva insomma partecipare a quel consiglio comunale, era importante per lui, però quando ho domandato nessuno aveva visto al comune Massimiliano. Non è rientrato a casa neanche per la sera, al che io quando sono state le 7 e mezza, le 8, sono andata dai carabinieri e ho sporso denuncia. Lei ha qualche sospetto in merito a questa scomparsa? Sa se magari suo marito potesse avere dei motivi per allontanarsi da casa o se avesse dei problemi? Di motivi, il motivo suo principale era molto depresso, molto depresso perché all'incirca non aveva lavoro, perché lui soffre di una grave forma di epilessia, deve prendere dei farmaci, è quella la preoccupazione più importante e aveva riportato con l'epilessia dei danni al fisico, non poteva svolgere determinati lavori, anche chiedendo aiuto alle varie istituzioni non aveva trovato riscontro in questo, per cui penso che un attimo di debolezza, un attimo di depressione l'abbia portato a compiere questo gesto. Lei pensa che possa essere andato molto lontano, possa essere rimasto a Civitavecchia o ne sia uscito? Io adesso sinceramente non penso, penso a tanto e penso a niente, però il cuore mi dice che forse lui è andato un po' lontano da questa città, dove non ha trovato quell'appoggio che forse cercava. Io spero con tutto il cuore che questa situazione si risolve nel migliore dei modi e in maniera positiva e dovrebbero riflettere parecchie persone su queste conseguenze che comportano.